Spettacoli e rappresentazioni teatrali a tappe salendo e scendendo da un autobus per raccontare gli anni della resistenza nei luoghi più rappresentativi di Bari. La resistenza del passato legata alla seconda guerra mondiale ma anche quella dei giorni nostri dove il nemico non si chiama fascismo ma criminalità organizzata. Tra le voci non a caso oltre a quella del professor Leuzzi direttore dell'Istituto Pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea. Nella giornata di presentazione del progetto Linea Memoria c'era anche quella di Pinuccio Fazio, padre di Michele, il minorenne ucciso per errore dalla mala di Bari Vecchia il 12 luglio del 2001. Linea Memoria, progetto dell'Associazione Cultura Arte, vincitore del bando Principi Attivi 2010, da febbraio a giugno farà vivere questa esperienza agli studenti di 14 scuole superiori di Bari e provincia. Anche questo pezzo di periferia del nostro paese è riuscito a dare il suo contributo nella lotta al nazifascismo e anche Bari, Bari soprattutto, Bari ha tanti luoghi a cui va ridata luce. Crediamo che le lezioni di storia oltre che sui libri vadano fatte anche sulla strada. Le nostre città sono pregne di storia e perché no? Questo è uno dei mezzi educativi che vogliamo utilizzare tramite il teatro. Il teatro è una forma d'arte e la forma d'arte forse che più di tutte riesce a dare, a restituire dignità dei luoghi, a restituire la memoria.